Dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese le congratulazioni all'Arma dei Carabinieri per l'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che ha portato all'arresto in Francia di Vincenzo Ciriello, elemento di spicco del clan Mazzarella e nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi. Congratulazioni all'Arma e ai magistrati anche dal Ministro della Difesa Guerini.